Per il Brescia la doccia fredda arriva subito a tre minuti dall'inizio su angolo di Craig, Ballotta esce a vuoto e Galderisi può infilare la prima rete. Subito c'è la reazione del Brescia con una punizione Corini lancia direttamente a rete ma è l'Alas a deviare regalando il momentaneo pareggio ai Lombardi. Il Brescia intanto si è perso definitivamente, Maniero ne approfitta al diciannovesimo di testa supera a Ballotta oggi in giornata negativa. Sul 2 a 1 la partita è chiusa ma poi Craig sul passaggio dell'ottimo Balleri arrotonda il risultato.